Ogni materiale è un nuovo universo da esplorare. Sai che la meccanica quantistica è anche dietro un gesto così semplice? I materiali ti sembrano noiosi? Forse perché non li hai mai visti alla scala atomica. Grazie alla meccanica quantistica e ai supercalcolatori, possiamo viaggiare tra gli elettroni e i nuclei e portare alla luce meraviglie invisibili ad occhio nudo. Sviluppiamo e usiamo avanzate teorie quantistiche e potenti codici di calcolo per studiare la materia alla scala spaziale del miliardesimo di metro e alla scala temporale del miliardesimo di milionesimo di secondi. Il team di fisica teorica della materia dell'Università di Roma Torvergata è noto a livello internazionale per lo studio quantistico delle proprietà elettroniche e ottiche dei materiali. Dalle molecole ai cristalli, ai nuovi materiali bidimensionali come il grafene, un singolo strato di atomi di carbonio, o ai nuovi materiali per il fotovoltaico o la produzione di luce ed energia a basso costo. La fisica della materia è un settore vasto e interdisciplinare della fisica moderna. Collaboriamo spesso non solo con i colleghi sperimentali, ma anche con gli scienziati dei materiali, ingegneri, matematici, biologi, chimici e talvolta anche con i medici. La nostra ricerca contribuisce all'avanzamento in campi che vanno dall'optoelettronica alle energie rinnovabili, dalla nanomedicina ai beni culturali. Qui a Torvergata abbiamo l'opportunità di interagire quotidianamente con i nostri professori, di far parte di collaborazioni internazionali e di sviluppare in prima persona progetti di ricerca in un ambiente dinamico e creativo. Il percorso formativo ti permetterà di acquisire non solo competenze teoriche e computazionali, ma anche soft skills e capacità di problem solving. Dopo la laurea potrai scegliere di fare il dottorato qui in Italia o all'estero, in una delle tante università con cui collaboriamo, oppure andare a lavorare in industrie, high tech o software, fino alle nuove Green Energies. Se vuoi scoprire l'invisibile bellezza dei materiali e come la fisica quantistica contribuisca al progresso scientifico e tecnologico, Torvergata è l'università giusta per te. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.